Il sindaco Antonio Amente L'assessore ai servizi sociali, Luciano Mottola I giovani potranno recarsi presso una struttura balneare per dieci giorni dove riceveranno colazione, pranzo e spuntino prima del rientro a Melito La partenza avverrà ogni giorno dal municipio in via Salvatore di Giacomo. L'iniziativa è rivolta ai piccoli che non hanno possibilità di andare in vacanza, o che in questo periodo si trovano in città Pertanto sarà data precedenza a coloro i quali hanno un reddito minore, in caso che le domande superino i posti disponibili Per partecipare è possibile scaricare la documentazione sul sito ufficiale dell'ente, o recarsi presso gli uffici dei servizi sociali dell'ente C'è tempo sino all'inizio della prossima settimana per presentare domanda C'è tempo sino all'inizio della prossima settimana per la prossima settimana per la prossima settimana